e ciao a tutti amici io sono franco versa e mi vedete con un pannello strano alle spalle circa un anno fa avevo parlato di inscape un software gratuito di grafica vettoriale ne avevo parlato sia dal punto di vista per la creazione di disegni e grafiche ma anche per la preparazione sempre di grafiche forme geometriche e quant'altro all'interno di altri software come ad esempio bluff title o anche software di editing come da vinci resolve perché molte cose potremmo farle in grafica esternamente pensate anche a dei sottotitoli di sottopancia o a delle grafiche che volete far arrivare anche perché in fusion si possono utilizzare dei file svg e quindi magari parte di grafica crearla esternamente bene mi sembrava all'epoca che questo recensione questo tutorial vi fosse piaciuto era anche abbastanza completo anche se era solo il primo di una serie che poi però non ho continuato adesso ieri mi ha scritto un amico dicendo che gli sarebbe piaciuto continuarsi e così sono andato a rivedere un attimino inscape perché io in realtà non utilizzo questo programma utilizzo affinity design però sotto molti aspetti inscape oltre che gratuito ha anche parecchie funzioni interessanti e come vedete dal pannello nel frattempo ovviamente il software si è rinnovato e siamo arrivati alla versione 1.2.2 anche se c'è un'altra .3 ma non è ancora stabile quindi andiamo all'interno di inscape e scopriamo quali sono un po le novità che sono soprattutto dell'interfaccia delle preferenze e eventualmente scrivetemi se vi piace anche se ci sono canali specifici solo dedicati a questo software quindi sicuramente molto meglio di quello che dico io ma ho visto che vi piace come spiego con la mia calma e la mia attenzione ai dettagli e quindi non perdiamo tempo e vediamoci questo tutorial ecco innanzitutto ripeto questo software è gratuito e esiste anche per più sistemi operativi questa è la pagina internet che potete trovare semplicemente scrivendo inscape su un motore di ricerca e arriverete a questa pagina e come vedete qua c'è il download vediamo inscape 1.2.2 come vi ho detto vedete che già sta per uscire la 3 anche se ancora instabile andiamo su download current version e qui abbiamo anche tutte le versioni come vi dicevo per i vari sistemi operativi quindi linux windows mac su windows poi potrete scegliere anche la versione 64 bit o 32 una volta scaricato e installato ci apparirà questo nuovo pannello con ovviamente una grafica nuova cosa possiamo vedere delle impostazioni rapide su questo pannello che non avevamo prima abbiamo una tela e qui possiamo decidere come sarà il predefinito scacchiera chiara scacchiera scura bianco quindi potete applicare quello che più vi piace possiamo usare una tastiera e ovviamente con shortcut eccetera anche se proveniamo da altri software come ad esempio coreldraw adobe illustrator eccetera io lascerò quella di default possiamo scegliere tra un tema chiaro voi lo troverete così perché io l'avevo già impostato o un tema scuro e poi come vedete qua sotto abbiamo delle icone e qua possiamo scegliere se avere una scala di grigi se avere i simboli classici compatto piccoli ecco vedete che è cambiato come schermi piccoli predefinito di sistema escape classico io adesso lascio colorato perché avrà tutte le nuove icone e possiamo salvare qua abbiamo supporto un finanziamento se vogliamo abbiamo un disegno dove da qua avremo altre cose vediamo e è stata aggiunta anche questa x per chiudere anche questo pannello e uscire eventualmente da qua abbiamo carica è stato aggiunto quindi da qua se vogliamo caricare un subito un disegno senza primo a fare il nuovo documento e poi caricarlo da la possiamo farlo direttamente da qua invece qua abbiamo già vari allora abbiamo i file esistenti io non ne avevo poi abbiamo vari layout predisposti ad esempio per la stampa e troviamo i classici fogli a 4 verticale orizzontale letter eccetera le varie dimensioni di foglio 1 2 3 4 bigliettini da visita eccetera eccetera un po come era prima poi abbiamo schermo e ecco qua e se abbiamo ad esempio se vogliamo fare grafica per utilizzarla poi un video è molto comodo perché abbiamo già le dimensioni video anche verticali come vedete anche cellulari e anche addirittura di tablet quindi ecco passiamo ancora a video con hd 2k eccetera eccetera per social quindi abbiamo già le cover di facebook e anche altri social e poi altro possiamo anche già aprire formati per icone e carta entità eccetera io adesso andrò su video e farò un 1080 cliccando si apre il software e come vedete l'interfaccia è stata tutta ridisegnata molto carino ora ecco qua il nostro foglio e si distingue subito perché bianco mentre tutta l'aria è grigia e abbiamo anche questa leggera ombra come vedete risulta tutto molto più pulito e funzionale tutte le icone degli strumenti dei tool sono colorate molto evidenti qui abbiamo tutti i pannelli che si aprono quando a seconda delle funzioni che andiamo a utilizzare un'altra barra di tool eccetera e qua sotto abbiamo le varie palette le palette dove è stato aggiunto queste due freccettine che servono per spostarsi come vedete di palette in palette con queste possiamo cambiare le palette inoltre abbiamo questo menu che premendolo ci permette di avere altre palette quindi premendo qua potremmo passare ad altre palette e anche a un menu configura questo menu ci permette di configurare in maniera visuale ovviamente le nostre palette ad esempio l'altezza del quadratino vedete quindi l'altezza di tutto il tile potremmo fare molto piccolo o molto grande o sceglie una via di mezzo ovviamente questo vedete che regola la dimensione come fosse uno zoom e quindi andrà anche a spingere fuori le palette perché si allargano proprio rimpiccioliscono se si rimpiccioliscono ovviamente vedete che fanno entrare più palette poi abbiamo un aspetto che va a regolare una specie di aspetto ratio del quadrato che non sarà più quadrato ma come vedete possiamo restringere far diventare rettangolare fino a diventare dei rettangolini molto stretti e anche questo fa sì che potremmo visualizzare più palette oppure andare a allungarlo e quindi avere il rettangolo nell'altra dimensione più basso ma più dilatato quindi qua con questo e questo possiamo andarci a regolare diciamo la dimensione di quello che sono qui poi abbiamo un espandi per riempire vedete che questo blocca il rapporto quindi non mi permette più l'aspetto lo va a bloccare e ho solamente diciamo l'altezza del tile senza poter regolare l'aspetto lo va con un lucchetto che lo va a bloccare subito sotto troviamo un bordo che va a regolare da un colore all'altro lo stacco vedete che i colori sono adiacenti quasi a creare una sfumatura invece spostandoci creere uno spazio tra i quadrati che si separeranno e qua appunto potete decidere questo e il comando righe che invece tira di quante righe saranno visualizzate queste palette quindi vedete possiamo fare entrare cinque righe quindi potremo lavorare anche con una cosa così e avere molti più colori disponibili ecco l'unica cosa che magari sarebbe carino inserirsi in futuro è un reset del pannello per riportarlo ai valori di default comunque andiamo a riportare a 1 e così e poi ovviamente per spegnere il pannellino basta cliccare un'altra cosa che vediamo che è stata aggiunta è qui il livello 1 che ci dice qual è il livello attuale sul quale stiamo lavorando altre cose che sono state migliorate sono le voci del menu che otteniamo premendo il tasto destro cioè qui avremo molti più comandi che ci facilitano quel tipo di lavorazione come vedete la mia versione è tutta in italiano quindi anche questo è di grande aiuto perché in questa maniera anche solo scorrendo tra i menu potremo capire cosa stiamo andando a fare e vedete qua ad esempio su tracciato come è ben evidenziata unione differenza intersezione quindi anche lavorare tra le forme diventa molto facile andiamo a fare un intersezione avete visto ho preso la parte del cerchio che che va a sovrapporsi andiamo invece a fare una divisione vedete che il bordo ha diviso il mio cerchio esclusione va a tenere forme tranne quella che si incrocia con queste cose qui le le potremo andare a vedere in seguito cose un pochino più tecniche che sono state create sono ad esempio se noi creiamo una figura e applichiamo una sfumatura queste sfumature sono state migliorate dal punto di vista dell'elaborazione per avere un minor effetto di di banda del colore quindi in teoria la sfumatura dovrebbe essere molto migliorata come elaborazione a video quando creiamo delle figure ad esempio io adesso vado a creare qua dentro ecco questo quadrato magari posso copiarlo e incollarlo e ora proviamo a spostare questo oggetto come vedete non succede nulla se invece adesso lo faccio un po più piccolino per farvi vedere meglio cosa succede ok se invece andiamo qui in alto vedete che c'è questo attiva e disattiva gancio praticamente una calamita con s che sta per snapping se clicchiamo e l'attiviamo ora come vedete intanto abbiamo anche una distanza dei due oggetti che ci va a indicare dove stiamo allineando è un allineamento dell'oggetto così un allineamento superiore così stiamo appoggiando la base alla metà così lo stiamo centrando e così via abbiamo possibilità anche di decidere degli allineamenti cliccando questa freccetta infatti appare questo menu che dice attiva ancoraggio era quello che abbiamo attivato e poi qua vedete abbiamo il riquadro i nodi e l'allineamento e in questa maniera appunto abbiamo tutte queste funzioni vedete angolo riquadro angolo riquadro angolo riquadro lato riquadro eccetera e quindi andremo molto meglio a allineare i nostri oggetti ecco vedete ora ho tolto i bordi tondi e per farvi vedere meglio questo discorso di allineamento che è questo qui se lo togliete se disattivate questo non vedrete più questa riga di allineamento e qui appunto ecco metà linea a metà linea quindi sono diciamo centrati fra di loro e vedete che comodo è per magari fare la stessa altezza perché c'è proprio anche un gancio e quindi se volete fare figure tutte della stessa altezza basterà fare così agganciarle e ridimensionarle inoltre se volete avere dei tool migliori potete andare su modalità avanzata e qui come vedete avrete ancora più voci ad esempio i riquadi spigoli angoli punti metà spigolo i centri sui nodi sugli altri punti l'allineamento le griglie quindi potrete entrare in un menu molto più particolare giato oppure resettare alla questa versione più semplice ora come sapete questo è il nostro canvas cioè la nostra area di disegno come vedete ho messo un fondo celeste con delle stelline e ho scritto pagina 1 perché perché come sapete si potevano aprire più documenti ma ora è possibile invece aprire più canvas più aree di disegno anche all'interno qui per farlo bisogna cliccare questo strumento crea e modifica le pagine del documento il quale apre questa nuova funzione cliccando qui aggiungeremo una nuova pagina uguale a quella esistente clicchiamo e vedete che ci è venuta un'altra pagina un po come in altri software mi sembra illustrato se non erro la pagina che viene creata avrà la stessa dimensione del precedente questo ci permette di creare delle pagine appunto con stessa risoluzione eccetera e se dobbiamo creare un ad esempio non so un'impaginazione un libro eccetera ma se invece desideriamo una risoluzione diversa sarà sufficiente andare qui vedete dove è riportata tra l'altro la risoluzione che avevamo e scegliere una risoluzione diversa proviamo una 4 e vedete automaticamente che avremo questa nuova dimensione facciamo un'altra prova qui le abbiamo ovviamente tutte io voglio fare un'icona 16x16 e vedete che piccolina adesso vado a fare il video come l'avevo 1080x1920 però vedete che è formato verticale e così appunto cliccando qui potrò aprire come vedete più documenti e ovviamente poi andare a lavorare all'interno di quel documento come fosse appunto una pagina a sé stante ecco perché ho scritto pagina e ovviamente ci sarà molto più facile copiare cose da una pagina all'altra un'altra funzione molto interessante è che se abbiamo il cursore appunto possiamo fare operazioni all'interno della pagina come normale ma se riprendiamo questo tool come vedete viene evidenziata quella pagina e cliccando tasto sinistro è possibile ricollocare la pagina dove più desideriamo ci rimette di creare cose con più pagine è possibile anche direttamente ridimensionare la nostra pagina anche trascinandola dai bordi e quindi di fatto sto andando a variare la dimensione di quella pagina e selezionando un pdf sarà possibile esportare un documento multipagina un'altra funzionalità aggiornata e sul tool testo ora è stata aggiunta la possibilità di evidenziare una parte e ad esempio regolare la spaziatura come vedete sto sono andato a comprimere tutte le lettere ovviamente posso anche andarle allargare questo può tornare comodo quando andiamo a impaginare del testo ecco qua vogliamo ottenere delle spaziature particolari se fate una qualsiasi figura anche complessa e selezionate con shift il vostro testo potrete ora andare in testo e fare sagoma in una cornice questo inserirà il vostro testo all'interno di quella forma e vedete che prende anche facciamo un altro esempio con un cerchio quindi shift andiamo su testo e andiamo su sagoma in una cornice e vedete che ora il testo è inserito così inoltre facendo un altro oggetto e facendo sempre shift potremmo fare anche testo imposto a cornici di sottrazione questo farà se il testo fluttuerà attorno a questa figura che ovviamente anche cambiandola e questo è carino quando vogliamo creare dei rientri delle cose sul testo è grande però vedete che si sta deformando andiamo ora vedete che il testo viene avvolto appunto viene viene respinto dalla nostra forma bene per questo tutorial mi fermo qui ci sono altre novità nei menu molte altre cose però essendo questo un tutorial che era di base in questo video ho voluto farvi vedere le differenze della nuova versione e in un prossimo video continueremo a spiegare i tool e andremo avanti per imparare appunto questo programma che anche per me sotto certi aspetti è nuovo perché non lo utilizzo molto ma tantissime potenzialità quindi vale la pena di studiarlo ed utilizzarlo quindi io vi ringrazio scrivetemi nei commenti se vi piacciono queste serie di video e se vi piace come spiego io iscrivetevi al canale se non siete iscritti e cliccate anche sulla campanella per essere avvertiti ogni volta che posto un video e noi ci vediamo al prossimo tutorial ciao iscrivetevi al canale iscrivetevi al canale iscrivetevi al canale